Allora, mentre attendiamo il PIS, attendiamo che Mammo Natale ne ritorni, noi volevamo quest'anno concludere in una maniera diversa, prima del PIS, perché noi parliamo sempre della banda comunale di Portacomaro, però, insomma, la banda è formata da tante persone, uomini, donne, giovani, giovani, e magari così sarebbe anche bello sapere i loro nomi. E allora quest'anno la banda vi vuole salutare e fare gli auguri, chiamando ovviamente per nome i suoi componenti. E allora vi fanno gli auguri la sezione Flaudi con Miriam, Anna, Arianna e Marta. La sezione Clarinetti con Antonio, Marco, Gianfranco, Alberto, Luca, Mario, Maria, Rebecca. La sezione Clarinetto Basso con Cristina. La sezione Fagotto con Giulia. La sezione Clarinetti con Isabella, Agnes, Andrea, Gaia, Coretta e Marco. La sezione Saxtenoni con Michele, Stefano e Massimo. La sezione Fricorni Maritoli con Gianviero, Daniel, Matteo e Andrea. La sezione Corno con Aldo. Adesso le riunioni a dare una mano perché è partito tutto. Per un secondo. C'è un attimo di parlo. Puoi vedere perché sono partito. Vieni, vieni, vieni. Ci siamo fermati a Aldo. Ci siamo fermati a Aldo perché ha una pietra miliare nella mano. Quindi facciamogli un bel applauso. La sezione Tromboni con Davide, Renato, Enrico, Walter, Nicola, Elena e Gabriele. La sezione Tromboni con Marco, Eugenio, Marco, Andrea, Sara, Paolo e Giovanni. La sezione Tromboni con Matteo, Mattia è nascosta nel pubblico modesto. Una vita per la parte. E concludiamo con la sezione Bassi Tuba con Lorenzo e Antonio. Ovviamente la sezione Direzionale con Marco. E la sezione Presentazioni con Marco. Grazie.